partiti allo steccato elettrotreno ma viene presto scavalcato da eldo river che a centro pista prende il comando avendo all'interno guagliona poi si riporta sotto lungo la corda anche elettrotreno i tre sono in linea davanti ad axa reym all'esterno quindi complicati the team sun sun medaglie d'oro e più indietro ad sense le vie infinite lungo la corda e ora guagliona nei confronti di eldo river elettrotreno ha spostato a largo dei due poi axa reym a centro pista si sta andando forte con eldo river e guagliona in lotte passato eldo river elettrotreno si sta ripigliando l'attacco mentre eldo river ha preso vantaggio al suo inseguimento elettrotreno poi axa reym e le vie infinite nel tratto finale eldo river si salva davanti ad elettrotreno al terzo posto le vie infinite quarto sun medaglie d'oro rivediamo le immagini con eldo river che ha distrutto guagliona lungo la corda per poi passare in avvantaggio e mantenere la meglio saldamente fin sul palo il quattro di eldo river pasquale borrelli in sella al posto d'onore il cinque di elettrotreno davanti al sette di le vie infinite quindi il probabile ed ufficioso arrivo della terza di napoli è quattro cinque sette